Ciao a tutti oggi prepareremo la bevanda sgonfia pancia. Il tempo di preparazione della ricetta è di cinque minuti circa. Gli ingredienti sono kiwi, mela, zenzero in polvere e acqua. Andiamo il via alla ricetta. Mettiamo all'interno del boccale il kiwi tagliato a pezzetti e la mela e li tridiamo per un minuto a velocità 7. Adesso con l'aiuto della spatola triniamo sul fondo del boccale la frutta. Andiamo a recuperare anche quella nel coperchio. Adesso versiamo l'acqua. Amalgamiamo per 30 secondi a velocità 4. Adesso aggiungiamo lo zenzero in polpere. amalgamiamo per 30 secondi a velocità 3. la nostra bevanda è pronta. Andiamo a versarla in un bicchiere. bevanda sgonfia pancia può essere conservata in frigo per due giorni all'interno di una bottiglia o bevuta all'istante. Bevanda sgonfia pancia. Grazie e alla prossima ricetta. bevanda sgonfia pancia. Grazie a tutti. bevanda sgonfia pancia. Grazie a tutti.